Archiviata la vittoria contro l'Union Berlino, la formazione di Rudy Garcia è tornata ad allenarsi in vista della gara di domenica contro il Milan. Una partita importante per la classifica contro una diretta concorrente per la parte alta. Due squadre che stanno vivendo situazioni diverse, con il Napoli uscito vincitore dagli ultimi due scontri tra campionato e Champions, ed un Milan che al contrario è reduce da due sconfitte contro Juventus e Paris Saint-Germain. I partenopei sicuramente non sono belli da vedere come nella passata stagione, ma per la bellezza ci sarà tempo. Al momento ciò che conta è la concretezza della squadra. Kvara sembra che stia tornando ai livelli della passata stagione, sia per aver ritrovato la via dei gol, sia per la qualità delle giocate in campo. Al tempo stesso in Napoli trova nuovamente Raspadori, che dopo essere stato utilizzato a centrocampo come mezzala di inserimento, con l'infortunio di Osimène è tornato ad occupare il fronte offensivo. Rudy Garcia vuole trovare risultati e sicurezza, dopo si penserà agli aspetti estetici. Una filosofia questa che non va molto giù ai tifosi, abituati più a prestazioni al di sopra delle righe che alla concretezza, ma i grandi club devono badare anche a questi aspetti. Chi si aspettava di vedere continuare il lavoro di Spalletti non conosce il calcio di Garcia, storicamente con pochi punti in comune con l'allenatore di Certaldo. Contro il Milan il tecnico cambierà poco, sicuramente, come già detto, ci sarà Raspadori a guidare il fronte offensivo. A lui l'arduo compito di spingere il Napoli fuori dalla crisi, spingendo il club sempre di più in zona Champions.